buongiorno e ben ritrovati nel mio canale sono tornata faremo questa orecchini mi piacciono molto anche i colori inizio presentare i materiali che occorrono così iniziamo con la quali tutorial per fare questo tutorial orecchini occorrono le disco duo una misura 6 x 4 mm questo è un artista lambert poi occorrono le super duo il colore questo super duo è satin metallico occorrono i roccales miyuki 11 0 questo è un duracoat galvaset gold occorrono nel nostro 15 0 sempre duracoat galvaset gold occorrono i nostri rondelle cipollotto da 4 x 3 mm questo un colore rosa poi ancora 2 x 3 mm cipollotto rondelle colore bronzo gocce poi cosa manca cosa manca dove finito con naturalmente le base orecchini e cerchettoni iniziamo con lì tuttora per iniziare dobbiamo inserire 4 4 disco benz sul nostro ago ho girato la camera manca che non si ferma oggi 4 disco benz dovete inserire questo disco duo per quattro volte ok io ho portato già fino a il mio filo e dobbiamo ripassare a tutte e quattro da dietro in modo che poi i fili si incontrano quindi ripassate ancora questa 2 e arrivate qua ecco come vedete i fili si incontrano qui dopo questa mossa non dovete fare altro che chiudere fare 3 nodo fate 3 nodo e poi portate il nodo dentro la disco benz successiva io ho chiuso e portate avanti il nodo dentro la disco benz sto scendo da foro basso adesso io porto in foro in alto a questa disco benz ok a questo modo sono trovando uscire da foro in alto adesso andiamo inserire su ago due super duo due super duo e portiamo inserire a disco benz disco duo successiva in questo modo quindi vado inserire di nuovo due e portiamo avanti sempre così di portare nella disco duo successiva inserire anche qua e qua e poi ripassate ok aia ferma sto uscendo il passato e sto scendo in foro basso a questo super duo adesso cosa faccio portiamo in foro in alto della super duo a questo modo adesso io me lo giro per la mia comodità perché mi piace lavorare verso destra quindi adesso andiamo inserire uno due una rondella da 4 x 3 mm e un altro 2 x 15 0 ok dovete inserire su ago 2 x 15 0 la rondella 4 x 3 mm e 2 x 15 0 e vado porto nella super duo successiva mentre qui questo spazio andiamo inserire il nostro secondo colorazione da rondelle 2 x 3 mm a questo modo quindi faccio vedere un'altra volta inserisco 2 x 15 0 una rondelle da 4 x 3 mm e un altro 2 x 15 0 su ago ecco il nostro solito può quindi no dentro quindi di nuovo inserire il 15 0 due 15 0 MIYUKI la nostra rondelle da 4 x 3 mm e due 15 0 e andiamo inserire a questo spazio ecco Mentre questo spazio nuovo inseriamo la nostra 2x3 rondelle, quindi continuate ad inserire a questo segmento finendo a terminare anche qua e poi ripassate, poi ripassate. Ok, ho portato avanti e sto uscendo dalla rondelle da 2x3 mm, adesso cosa facciamo? Andiamo ad inserire su vago 3x15.0 e andiamo ad inserire, saltiamo il super 2, saltiamo le super 2, andiamo ad inserire direttamente nella 15.0 Aia, dai che non vedo il foro, e arriviamo nella seconda, dai, 1, 2, ok, questo è 2x20.0. Mentre qua andiamo ad inserire 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, uscendo dalla seconda, 15.0, inseriamo su vago 6, 15.0 e potiamo uscire, saltiamo cristallo e potiamo uscire a questa 2, 15.0 successiva. In questo modo, quindi facciamo un archetto sopra a cristallo, quindi di nuovo, uscendo da questa 15.0 andiamo ad inserire 3, 1, 2 e 3, 3. E vado, salto la super 2 e vado inserire direttamente nella rondelle, dove fuori, nella rondelle. Quindi, applichiamo sopra un picco, ok, qui, uscendo di nuovo dalla rondelle da 2, 3 mm, inserisci di nuovo 3, 15.0. Salto la super 2 e vai inserirmi di nuovo a questa 2, 15.0. e poi ando qua, a questa 2, 15.0. 1 e 2. Vai, così. Ok. Quindi, come ho detto, adesso siamo arrivati davanti da cristallo, allora sopra cristallo dovete inserire 6, mentre tra questi spazi qui, tra questa super 2 e cristalli, vabbè, rondelle da 2 x 3 mm, dovete inserire 3, mentre sopra applicare 6, quindi coltivate così, io me lo giro perché vi piace meglio, coltivando così, gli inserimenti delle 15.0. Ok, io ho inserito le mie 15.0 tra le perline e portate avanti. Adesso, uscendo il primo 3 che abbiamo inserito nella picco, adesso cosa faccio? Allora, inserimi su ago, un 15.0 e una rondelle 4 x 3 mm e come abbiamo qui inserito 6, abbiamo adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi, cosa faccio? 1, 2, 3, esatto, 3 e porto nella quattro e nella quinta. Il tiro filo In questo modo Adesso, qui, uscendo da questa Ok, vediamo se vediamo se vediamo io così in granito, uscendo da quinta, inserisco un cristallo, cristallo, rondelle da 4 x 3 mm E' un 15.0 e vado inserirmi nella punta, questa 3 che abbiamo inserito tra questa e questa, quindi vado inserimi nella punta. Vai, piccolina, senza entrare altre perline, solo Non fa Ecco Sono nella punta, è tiro filo In questo modo Adesso, uscendo da qua Uscendo dalla Ponte dalla picco, vado inserimi un 15.0 2 Super 2 E ancora un 15.0 15.0, 2 super 2, è 15.0 E vado Inserimi 1, 2, 3 il picco di centrarla da questa piccola in questo modo quindi di nuovo uscendo dalla piccola vado inserimi un 15 0 un cristo rondelle da 4 per 3 mm e come prima ho contato 123 vado inserimi nella 4 e nella quinta in questo modo quindi di nuovo uscendo dalla quinta ma inserire i rondelle da 4 per 3 mm e 15 0 e andate fumiamo data inserire 123 la centrale a questo picco veramente al centrale tramite la camera si vede male si tratta per scusa 1 e 2 e 3 eccolo trovata come vedete che poi qui diventeranno 3 mentre sopra acquista verrà inserita super 2 quindi continuate inserire a questo segmento della pellina terminando tutto arrivando qui io inserite la mia pellina adesso vorrei far vedere se rendete conto se avete inserito come ho spiegato che vicino le super 2 super 2 verrà creato 5 15 0 mentre qui vedete abbiamo fatto una architettino dopo aver inserita mi raccomando di di ripassare perché molto importante di essere ripassato perché deve essere ben tenuta eccoci qui di nuovo ripassato uscendo dalla fuori basso da questo super 2 adesso dobbiamo portare in foro un altro a questo super 2 ok adesso dobbiamo prendere il nostro rondelle da 2 per 3 mm e andare inserire la rondelle della 4 mille 3 4 per 3 mm questo modo quindi uscendo dalla rondelle da 4 4 per 3 mm dobbiamo inserire un 11 0 e andare inserire nella rondelle successiva dove foro eccoci successiva in questo modo tanto dobbiamo ripassare si inizia poi a tirare bene unità quando è così questa dovete portare sopra quindi uscendo dalla rondelle da 4 per 3 mm inserite la vostra rondelle da 2 per 3 mm e portate nel foro superiore nella super 2 quindi adesso di nuovo tra questo super 2 andiamo inserire nuovamente la nostra rondelle da 2 per 3 mm mentre di nuovo qua uscendo dalla super 2 inserisci di nuovo la nostra rondelle da 2 per 3 mm andate inserire nel direttamente nella rondelle da 4 per 3 mm questo modo mentre come detto prima tra queste due rondelle da 4 per 3 mm andate inserire nel nostro 11 0 quindi dovete coltivare e terminare il vostro giro in questo modo in questo modo così quindi ripassando e ci vediamo dopo ok io ho ripassato come vedete sto scendo dalla questo cristallo dalla 2 per 3 mm e adesso andiamo inserire nel nostro goccia quindi può giù a tavola questo però posto per la luce inseriamo su ago 3 11 0 un cristallo da 4 per 3 mm un cristallo da 4 per 3 mm la nostra goccia e 3 15 0 quindi portiamo su fino al nostro lavoro ok quindi il nostro seguente della nostra pallina sono queste 3 11 0 una rondella da 4 per 3 mm la nostra goccia e 3 per 15 0 quindi portiamo su fino al nostro lavoro quindi portiamo su fino al nostro lavoro quindi portiamo su fino al nostro lavoro salto questa 3 e rientro nella goccia nella goccia nella goccia 2 sì e soltanto nel cristallo questa 2 e tiro filo ok tirate finché non avete riuscito a portarla a vostro lavoro per essere portata bene su ok io me lo tengo così perché così anche vedete ok adesso 9 inserisco 3 11 0 e ripasso partiti da qua ripasso dall'altra parte da questa rondella della 2 per 3 mm un tiro filo eccoci qua così la nostra goccia è inserito quindi non rimane altro che potete ripassare qua io adesso non ripasso la sua così poi lo ripasso dopo adesso adesso dovete andare a inserire tutte queste perline per arrivare a questa parte pronte eccoci qua io sono riportata sopra ok mentre facendo questi orecchini visto che siamo il giorno di San Valentino prima ho detto che non ho trovato un nome mi è venuta mentre mi chiamo Valentina visto che sto tuttora facendo proprio oggi di giorno di San Valentino quindi grazie a questa giornata ho trovato anche il nome dei miei orecchini quindi orecchini si chiama Valentina ok basta sto uscendo dalla 2 mm 2 per 3 mm che c'è sfronte adesso andiamo a inserire su ago 6 11.0 e facciamo il nostro cappettino 6 11.0 e andiamo a inserire uscendo da questa parte vado inserire una dietro e questo è il nostro cappettino ripassiamo ripassate io adesso non ripasso dopo che avete ripassato non rimane altro che se volete ripassare tutto questo lavoro all'alto per tenerla ancora più bella forte poi qui potete inserire la base del vostro orecchino e orecchino è terminato io adesso non termino perché è tanto inutile che io vi faccio vedere come ripassare siete tutti i pellinatrici quindi non so posso immaginare che il resto capite anche voi ok questo è il nostro orecchino che ha terminato si chiama Valentina e poi vorrei mostrare una cosa che avevo nato ieri e terminata oggi che faremo dopo per la prossima tutorial ok questo ciondolo nato ieri e terminata oggi quindi se ti va a iscrivere per fare tutte queste belle creazioni che faccio anche gratuitamente mi fa molto piacere io vi saluto e ci vediamo allora con la prossima tutorial con questo ciondolo